Grazie, grazie ai miei alunni, grazie ai miei benvenuti, grazie a tutti, ma soprattutto ai ragazzi che stanno benvenuti, la bamba della festa nostra, via! Grazie a tutti! La bandiera italiana, scortata da un picchetto composto dalle forze armate e corpi di polizia di Stato. Per favore, silenzio, entra la bandiera italiana. La bandiera italiana è accompagnata dalle forze armate e della polizia di Stato. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!